Anche per correre! Ciao per tutti ragazzi! Oggi facciamo l'uovo del Torino! Perché io sono del Torino! E dovrei aprirla con la maglia della Juve! Ma dov'è? Non ce l'ho! Sento un rumore! Cos'è? 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 Ce l'abbiamo la maglia del Barcellona! Maglia del Barcellona! Maglia del Juve! Della Juve! E maglia del Juve! Si tira la testa! Dove la telecamerella? Allora ragazzi sono arrivate... Ancora! Allora ragazzi sono arrivate le tv di calcio! Che aspettavo io! Apriamo prima! Wow ci sono i pantaloncini! Vediamocenele! Maglietta! No! No questi sono piccoli! Aspetta! Proprio piccoli! Mettiamo la maglia! Se la maglia è grande quella mia! Questa! Allora è questa! È mia? Ok! Questa è mia! Andiamo con quella di Niki! Pantaloncini! Maglietta! Questa! Non le mischio! Tutto qua! Ciao! Ciao! Abbiamo il Barcellona! La Juve è il numero 1 dell'Italia! E il Barcellona è la numero 1 della Spagna! Questa è mia! Sembra mia! Guardiamo! Sì! Questa è mia! Sì! Questa è mia! È mia! Questa è mia! E allora anche la maglia è mia! L'ultima! E questa è di Niki! Non l'ha fatto vedere! Oh! Vi vado a cambiare! Eccomi qua! Eccomi qua! Eccomi qua! Prova di tiro! Ho beccato la lampada! Sono proprio stupido! Bah! Questa è che ti rilassi? Claire! Sai una finta eh! Pronta! Ah! 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 L'ho fatta forte! Ragazzi! Queste magliette si possono prendere su Socchi di Shop! Vi lascio il link in descrizione! E se usate il codice CRI e poi avete anche un perfetto 10% per lo sconto buonissimo! Queste maglie possono essere personalizzate con il numero e con il 9! Tipo Ronaldo 7 oppure Di Bala che non so il numero! E la maglia me l'ho aperta e il corriere! A casa! Fino a casa! La spedizione è incrautuita! Ci sono tantissime squadre! E la maglia sono di ottima qualità! Anche per correre! Mi faccio vedere uno scudetto! La Jeep! Non so perchè! E' una macchina! Poi questo pallino! E' l'Italia che vuol dire Primo dell'Italia! Lui è il capo dell'Italia! E poi... Ah! Qui dietro ci sta qui il numero e qui il nome! E ora prima l'uomo! Aia! Quindi! Allora! Abbiamo l'uovo del Torino! Ok! Con la maglia della Juve! Avete mai detto che la Juve apre il Torino? Ah! 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 Tanto io so cosa c'è! Ma no! Sai quella cosa? No! Ah no! Io pensavo che c'era quello dove si mette il telefono e puoi metterlo anche in piscina! Perché nella Juventus è riuscito! No! Aspetta! C'è una cosa del Torino! Non so cos'è! Facciamo! Apri! Amo! Apri! Amo! Due! Perché sono due? Non so! Apri questo! Sì! E apri questo! Ah! L'ho trovato! Il Toro! Il Toro! L'ho trovato! Io cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Ah! Tu hai trovato questo! Come? Ah! Ma questa è la collezione del Tori! Tu hai questo! E io questo! Dove? Quale? Questo! E tu hai questo! Aiuto! Ho scaduto! Mi libera! Ah! 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 Dato! Ah! Tato! Un video! Ciao ciao da Krik Trigia! E ti viene! Ciao ciao! Ciao ciao! nooo